Salve signori e ben ritrovati sul canale con la posta retrograda. Quest'oggi abbiamo un paio di pacchi, recapitatemi da due funs del canale, si dice così? Che mi hanno mandato un paio di loro cose per futuri video per il canale, per l'appunto. Vogliamo vedere subito di che cosa si tratta? Visualizziamo dunque subito il contenuto dei suddetti pacchi. Allora, più o meno so già in tutti e due che cosa c'è però. Questo nello specifico non lo so di preciso, quindi peccherò di curiosità ma voglio aprire per primo questo per vedere che cosa c'è. Ok, scherzavo. Dato che l'altro pacco si è rivelato molto più lungo da aprire con molta più roba di quel che credessi, passiamo in questo video a vedere soltanto che cosa c'è qui dentro. Che come già detto io lo so già ma voi no. Ah, abbiamo questo paccone incredibile da parte di Ludovico che ha comprato una certa cosa che mi ha chiesto di farci un video su. Un video spacchettamento per la precisione. Quindi, vogliamo vedere di che si tratta? Eccoli qui dunque, protetti direi piuttosto bene i nostri, ah sì, le nostre edizioni speciali dei due list pack Jaden e Chaz. Questa per l'appunto è un'edizione speciale che riuniva, non ricordo quanti pacchetti di preciso, credo due, quattro, non lo so, non mi ricordo. Dei due list pack di Jaden, questo stronzo qui, e di Chaz, che purtroppo poteva mettere Chaz in copertina. Questa signora è roba che risale al 2006, quindi veramente qualcosa di vecchio stavolta da aprire per il canale. Vecchio e soprattutto in lingue leggibili per una volta. In quanto sono in inglese e per l'appunto, come tutte le edizioni speciali, contiene una di tre carte edizione limitata che erano delle pippe assolute. Tra l'altro abbiamo trattato questa edizione speciale proprio in uno dei numeri di CPM, credo il terzo video, perché appunto erano usciti in quel periodo, nello stesso periodo di Ombra dell'Infinito. E dentro praticamente, ah ho letto adesso qua sopra, ecco, tre pacchi di Jaden Yu che tre pacchi di Chaz Princeton, quindi tre e tre. Beh, allora forse la probabilità per quanto bassa potrebbe anche esserci di trovare qualcosa che valga leggermente di più di un calcio in culo dato con gli anfibi. Comunque ringraziamo già da adesso Ludovico per averci mandato questi due cosi da aprire in un prossimo video che comparirà a breve nel canale. E per la posta di oggi questo è tutto signore, vi do dunque appuntamento ai prossimi video del canale. Distinti saluti. Grazie. 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 Grazie.